Oggi ci sono state consegnate le prescrizioni per il corteo di domani con appuntamento alle 14 in Piazza Maggiore. Le prescrizioni prevedono una delle zone rosse più grosse che Bologna abbia avuto negli ultimi 10 anni. Praticamente è tutto il quadrilatero che è intorno all'Arena del Sole dove sarà ospite domani Monti per il dibattito e il futuro dell'Italia. Qui ci sono due grandi ordini di problemi. Uno è che la Repubblica delle idee sono le idee dentro a una zona rossa solo di chi ha idee uguali a quelle che possono avere Mauro Scalfari e Monti. Quindi è una chiusura totale verso tutto il resto della cittadinanza. Legandolo anche a un fatto molto importante che non c'è nessun palazzo da assaltare. Si tratta di un luogo come siamo qui oggi che è un luogo di tutti dove sicuramente viene a parlare chi non è d'accordo in questo momento con Monti, Mauro o Scalfari. Ma dare il divieto a questi di poter parlare qui dentro mi sembra un po' il dato in cui il governo si sta muovendo in questi tempi e dove l'abbiamo potuto vedere benissimo anche ieri. Quindi dove ci sono uomini e donne che vogliono portare delle idee rispetto a come uscire da questa crisi, lo vogliono costruire insieme, il governo in questo momento e con il giornale Repubblica che si assume tutte le responsabilità di questa cosa, li tengono fuori dall'ordine del discorso. Bene, noi domani come oggi vogliamo essere qui fuori dall'arena del sole o magari anche dentro.